terrazza salomon ore 12 del 28 di aprile tempo seminuvoloso una bella rieta fresca ovviamente è tutto chiuso degli arditi salgono sul monte bello quasi senza neve poi scendono vigorosi questo il panorama corno stella poi tutta la vallata carisole monti c'è ancora tantissima ora vediamo una bella panoramica che scia e che prende il sole tutti belli tutti belli tutti bronzati sfoppolo ma il pistone è ancora agibile fino in fondo quindi se tiene il tempo qui si scia almeno ancora fino a metà maggio molto bello i monti il monte toro torniamo sul monte bello eccoli lì pronti a scendere francesco dorme